Una giovane donna di 34 anni è stata trovata nel proprio letto, cianotiche e desanime, deceduta molto probabilmente per cause naturali nella notte tra martedì e mercoledì. Il dramma è avvenuto in via dei Martiri a Tellania, San Tirpino, provincia di Caserta. È stato il marito a trovare il corpo senza vita della donna e ha subito allertato i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri della stazione di San Tarpino, coordinati dalla compagnia di Marcianise, indagano per far luce sulla vicenda. Grazie. Grazie.